Salve a tutti e bentornati in un nuovo video del mondo potteriano. Nel video di oggi andremo a parlare della famosa e leggendare profezia predetta da Sibylla Koeman ad Albus Silente e sul perché sia stata presa seriamente da quest'ultimo. Il fatto è che Sibylla Koeman nonostante abbia una comprovata esperienza nel prevedere le cose non ha una reputazione particolarmente buona e questo perché la divinazione come area della magia non è particolarmente ben vista dalla popolazione magica. Infatti la divinazione in un corso elettivo è insediato ad Hogwarts dal terzo anno in poi. In sostanza è essenzialmente l'arte di prevedere il futuro. Ci sono vari modi per raggiungere questo obiettivo e i metodi includono foglie di tè, fuochi d'artificio, sfere di cristallo, chiromanzia, cartomanzia, astrologia e interpretazione dei sogni. Nonostante la comprovata legittimità della divinazione, essa è spesso oggetto di un notevole scrutinio, anche da parte di alcune delle più brillanti streghe e maghi. Infatti la professoressa McGranit una volta l'ha descritta come uno dei rami più imprecisi della magia e Hermione ha apertamente mancato di rispetto alla professoressa Koeman durante una delle sue lezioni, a testimonianza della percezione di questo campo della magia. Infatti anche Silente aveva le sue remore con la divinazione, nonostante le riconoscesse come un campo legittimo della magia. Penso che sapesse che era reale, ma non credeva necessariamente che potesse essere realizzata da molte persone, un'abilità riservata a pochi altamente specializzati e selezionati. Infatti quando Silente intervistò la Koeman per la sua posizione a Hogwarts inizialmente fu molto impressionato e disse In una notte fredda e umida di 16 anni fa, in una stanza sopra il bar della Locanda Pub Testa di Porco, ero andato lì per vedere un candidato per il posto di insegnante di divinazione, anche se era contro la mia inclinazione a permettere che la materia della divinazione continuasse. Tuttavia la candidata era la pronipote di una veggente molto famosa e molto dotata, e ho pensato che fosse buona educazione incontrarla. Rimasi deluso, mi sembrò che lei stessa non avesse una traccia del dono. Le dissi, spero cortesemente, che non la ritenevo adatta al posto. Mi voltai per andarmene. Ma naturalmente fu proprio in quel momento, quando si voltò per andarsene, che Sibylla Koeman entrò in una profonda trance, predicendo la leggendare profezia, che avrebbe presto stravolto il mondo magico. Ecco giungere il solo col potere di sconfiggere l'oscuro signore, nato da chi lo ha tre volte sfidato, nato sull'estinguersi del settimo mese. L'oscuro signore lo designerà come suo uguale, ma egli avrà un potere a lui sconosciuto, e l'uno dovrà morire per mano dell'altro, perché nessuno dei due può vivere se l'altro sopravvive. Il solo col potere di sconfiggere l'oscuro signore nascerà l'estinguersi del settimo mese. E ciò che è interessante di Sibylla Koeman che racconta questa particolare profezia è che sembra legittimare le sue capacità di predire il futuro. Tuttavia, quello che mi sono chiesto è che se gli eventi ancora non si erano verificati, come poteva essere valida la sua predizione? Come avrebbe potuto cambiare la sua percezione di lei? Non potrebbe essersi inventata tutto? In fondo aveva tutte le ragioni di poter fingere di avere delle capacità in mani di predire il futuro, tanto più che arrivava dalla fine di un'orribile intervista. Persino Piton, che aveva ascoltato una parte della sua profezia, la prese sul serio, accettando che fosse effettivamente valida. E quindi mi chiedo, perché? Perché tutti hanno dato ascolto alla prima profezia della Koeman? Le ragioni possono essere molteplici. La prima è che Sibylla Koeman proveniva da una famiglia di validi e riconosciuti veggenti. Infatti, una dei suoi antenati, Cassandra Koeman, divenne famosa per le sue abilità di prevedere il futuro, anche se non credo che la sua origine abbia influito molto su Silente. Una seconda motivazione potrebbe essere quella che troviamo in un ricordo nel pensatoio di Silente, in cui dice quando Sibylla Koeman parlò non sembrava avere la sua solita voce mistica, ma aveva un tono rauco, quindi come quella che vide Harry nel suo terzo anno, quando la Koeman gli disse colui che ha il potere di sconfiggere il Signor Oscuro si avvicina. E quindi questo mi ha fatto pensare che la Koeman non stesse tirando fuori dal nulla questa informazione, o che fosse senza senso, ma che sembrava essere in una trance molto convincente da poter far credere a ciò che stesse dicendo, tanto che Silente e Piton, che sono due figure intelligenti e percettive, sapevano benissimo cosa stesse accadendo. E questo è tutto per il video di oggi. Voi vi siete mai chiesti perché fu presa così seriamente? Fatemelo sapere nei commenti e grazie a tutti per l'ascolto.